Soprattutto benvenuto a Istanbul, Fatih Terim secondo me è il più bravo in tutto il tempo all'entore in Turchia. Per quello tutta la gente ha rispetto da lui in Italia anche. Noi sappiamo che lui è un idolo in Francia. Quando erano lì, all'entore della Fiorentina, tutta la gente in Turchia è tifosi della Fiorentina. Per quello è un grande nome per noi, tutti gli allentori turchi, noi vogliamo come lui. Io posso dire questo, anche quando io giocavo a Galatasaray, il primo allentore professionale del mio, che è una persona molto importante. Fatih Terim